Abbiamo appena finito il carpet un po' emozionati Sì è stato molto più di un po' È stato super emozionante proprio tra volte A me è dispiaciuto non fare le foto con tutti i ragazzi però Cioè ci sarei stata un'altra buona mezz'oretta anche se stavo grondando Sì, poi ci guardavano con gli occhi e ti dicevano siamo qui da tre ore e mezza sotto il sole E poi ci hanno portato via purtroppo Infatti mi spruzzava proprio il cuore Ti prego, ti prego Oh, bello Per te la grande emozione per me c'è proprio una soddisfazione del lavoro fatto Perché sono innamorati dei personaggi della serie Ci si ritrovano, te lo raccontano Quindi ti lasciano una soddisfazione incredibile A me mi hanno trasmesso un sacco d'affetto Cioè sono rimasto veramente contento Da parte di tutti quanti erano scatenati Sono divertito troppo Sì, beh Mi è sembrato come se loro si rispecchiassero proprio in quello che raccontiamo nella serie E quasi come, proprio come se fossero loro tra poco, capito? E infatti guardare proprio il primo episodio insieme a loro è stato il debutto più bello che io potessi immaginare No davvero proprio Reagivano alle scene, ai colpi di scena È stato, sì, veramente indimenticabile Lo utilizzo Cioè io ho un mio diario E per me è una sorta di migliore amico alla fine Magari qualcosa che io non voglio dire a qualcuno che penso non mi possa capire lo scrivo nel diario Perché poi mi sento proprio più libera Quindi è proprio un qualcuno che mi ascolta e che mi capisce Per me è questo un diario Sì, io lo vedo molto come uno sfogo Cioè io per quel poco che l'ho utilizzato da piccolo lo usavo molto come sfogo Io adesso uso non un diario cartaceo ma le note del telefono E devo dire che sì, sono proprio uno sfogo Quasi un flusso di pensieri che uno ha bisogno di raccontare Magari non ha la forza di farlo esternarlo E quindi lo scrive semplicemente Questo è un po' il diario di tutti, no? Il diario è appunto il diario di tutti i personaggi Condiviso questa volta al pubblico Un diario aperto Sì Sì, è quasi come quando parliamo alla camera, no? Quindi quando parliamo allo spettatore È come se in quel momento fosse proprio lo spettatore il nostro diario Quindi è lui che ci ascolta in realtà È lui che ci capisce in quella circostanza Non poteva esserci festival migliore Per il semplice fatto che I Gifoni è un festival Per i ragazzi Per i ragazzi Da ragazzine È il nostro È il pubblico di diari Formato dal pubblico di diari Dai 10-12 anni È quello Quindi sì Arrivare direttamente a loro Lo scopo Quindi Poi sono tematiche che appunto Affrontano tutti i giorni Quindi lo sanno anche meglio di noi Che le abbiamo già vissute Quindi penso che ci fosse molta empatia Da parte dello spettatore Sì, cioè sicuramente è il luogo migliore Dove condividere Quello che abbiamo Quello a cui abbiamo lavorato E' proprio il pubblico con cui A cui ci rivolgiamo A cui ci rivolgiamo Esatto Con cui stiamo Eh sì, siamo comunque Ancora alla scoperta di chi siamo Io penso, no? Cioè Io posso dire Invece che assomiglio anche In parte al mio personaggio Quindi Sono una persona perfezionista E' una persona solare E Ho ancora Ho ancora tanto Da scoprire di quello che sono Beh sì Sicuramente appunto Stiamo crescendo E piano piano Lo stiamo scoprendo giorno per giorno Chi siamo Però Io mi sento Molto Bianca Cioè c'è un po' di fiamma in bianca E c'è un po' di bianca in me Ed è Lavorare a questo progetto Mi ha anche insegnato Molto E Penso che Ho anche appreso delle cose Del mio personaggio Quindi mi ha aiutato ancora di più A scoprire chi sono In realtà Fare bianca Io mi ricordo Ma perché A volte me lo dicono Però Ho alcuni flashback Avevo Quanti anni avevo? Sei, sette anni Massimo Io mi ricordo Andavo a lettone Con mamma e babbo E Stavamo guardando un film E io ero Sai Uno dei classici Bambini Rompiscatole Che ti fanno una domanda Pure su Perché il cielo è blu No Quindi Classiche Classiche domande Da bambino E gli facevo tante domande No Più del solito E Mi ricordo Stavo guardando un film E Avrò tartassato Mio padre I domande E mi ha mandato A fare una comparsa In un progetto E Da lì mi sono Un sacco Incuriosito Cioè Mi ero interessato Proprio Tutto il mondo Del cinema In generale Mi ricordo Chiedevo il telefono A nono Per smanettare Su youtube Per Per vedere un po' I set Come era fatto Il cinema Però Ho capito Di avere la passione Un po' dopo Cioè Iniziando già Il mio primo progetto Da protagonista Provando Determinate emozioni Proprio dentro Il set Perché Cioè Fino ad allora Avevo fatto Comparse Roli Abbastanza Piccoli Per la mia volta Da protagonista Lì Lì ho capito Che volevo Continuare a fare Questo lavoro Che io Reputo Il lavoro Più bello Del mondo Io sono Una grandissima Appassionale Di cinema Fin da bambina E In verità Non avevo mai pensato A Che sarei Andata Dall'altra parte Dall'altra parte Dello schermo Però Io Quando vedo I film Per me La giornata È una giornata Soddisfacente Cioè Una giornata Senza vedere Un film Sendo me È una giornata Persa Quindi Vive L'emozione Di stare Su un set Di stare In questo mondo Di poter Regalare Emozioni A Questi ragazzi Per me È tutto L'ha scoperto Adesso Invece Io Da quando ero piccola Ho sempre avuto L'opportunità Di fare spettacoli Un po' con la scuola Un po' per teatro E La mia famiglia Mi ha sempre detto Tu Devi fare questo Tu sei da palcoscenico Ma semplicemente Perché Quando facevo Uno spettacolo Mi sentivo A mio agio Cioè Non era una di quelle bambine Che magari Era timida O si vergognava E quindi Da lì Poi ho iniziato a fare Spettacoli Su spettacoli I miei genitori Hanno deciso Di scrivermi In agenzia E quindi Ho fatto le prime Comparsate E ho capito Che mi piaceva Stare lì Sul set Scoprire quel mondo Vedere cosa ci fosse Dietro In realtà Un film È emozionante È emozionante E quindi Poi gli ho detto No voglio fare questo Adesso Ci punto tutto E È così che è nato tutto In realtà Gli spettacoli a teatro Volevamo salutare Tutti i ragazzi Di Gippone E Ci vediamo Il 14 settembre Su Netflix Ciao Ciao